Guardi, io dico che benvengano questi tipi di inchieste, perché in un momento di crisi economica come questa, dove lo dicevamo prima, i 4 milioni di cittadini italiani che vengono sotto la soglia di povertà, una bolletta di 100-200 euro in più o in meno va a incidere in maniera significativa e sensibile sulle famiglie e sui redditi delle famiglie, quindi benvengano questi tipi di inchieste, benvenga la chiarezza, gli strumenti, se ne è parlato poco, utilizzo questo tema per dire che esattamente un mese fa la Camera ha approvato ed è adesso al Senato la nuova legge sulla class action, cioè sull'azione di classe per i risarcimenti, era già stato introdotto in precedenza, era poco applicata, oggi è stata resa applicata perché la class action potrà essere esercitata da consumatori, la si potrà finalmente fare nel momento in cui questa legge, e sottolineo è una legge che esce dal Parlamento, votata all'unanimità da parte di tutte le forze politiche, dove si dà effettivamente… Il Parlamento fa cose buone e uno le sottolinea, non è giusto dirlo secondo me perché oltre al fatto che è una cosa buona fatta dal Parlamento, ma è soprattutto una cosa utile per il cittadino e per il consumatore, perché non solo la class action potrà essere applicata sulla tutela dei diritti individuali, ma anche sugli interessi collettivi e quindi questo potrebbe tranquillamente essere un caso perfetto, ma soprattutto togliendola dal codice del consumo e mettendola nel codice di procedura civile potrà essere applicata non solo dai consumatori e dalle associazioni dei consumatori, ma potrà essere applicata da qualunque cittadino, molto più semplice, molto più rapida, con la possibilità di poter ottenere reali risarcimento di danni. Credo che questo sia uno dei casi per eccellenza rispetto alla quale un'azione di classe, qualora accertata la responsabilità, potrà dare ristoro e beneficio ai consumatori. Grazie a tutti.